una partita delicatissima molta tensione in campo addirittura munizioni espulsioni insomma quindi si sentiva che c'era proprio quella tensione tangibile di un incontro delicatissimo sì è stata una partita ma non cattiva è stata agonisticamente un po' sopra le righe perché comunque loro si giocano il campionato ed è per me la squadra più forte e io vivo a Montepone faccio il tifo veramente per loro gli auguro di vincere il campionato perché è la squadra che gioca meglio al calcio ripeto una partita agonistica mentre da parte nostra noi venivamo da un brutto periodo noi invece dobbiamo salvarci quindi dobbiamo vendere cara la pelle quindi automaticamente è nata una partita in questa maniera dove però noi ci abbiamo creduto abbiamo reagito benissimo dopo il gol subito e credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria c'è stato molto agonismo in campo dicevo io ma tanto agonismo anche sugli spalti moltissime persone questo è questo incontro che era appunto delicato anche per voi quindi possiamo preparare dal punto di vista dall'animo sereno la prossima partita no ma noi questa noi siamo stati sempre sereni nel senso abbiamo noi crediamo molto nel lavoro purtroppo venivamo da tante partite dove si giocava bene non si otteneva niente quindi non abbiamo perso la testa abbiamo continuato a lavorare perché credo che il lavoro alla fine paga e la squadra anche oggi ha giocato una buona partita ripeto con sapevo ed era consapevole che giocavamo contro la squadra più forte delle campionate quindi siamo riusciti a mettere in difficoltà siamo riusciti a bloccare il loro gioco così come era successo un po' all'andata quindi credo che per noi sia assolutamente fa morale fa classifica quindi io voglio solamente ringraziare i ragazzi che hanno dato veramente il cuore hanno dato il 101% e voglio naturalmente ringraziare anche il preparatore atletico perché oggi il Montepone oltre ad essere una grande squadra forse è la squadra più preparata atleticamente noi abbiamo il professore Garcea che comunque è un professionista è una persona che mi dà una grande mano e oggi il suo lavoro si è visto in campo Alessandro allora molta attenzione in campo si diceva e quindi ne risente il gioco per forza di cose a parte il fatto che c'era un po' di freddo per dire e quindi l'aggancio alla Rambiolese è riuscito in parte o non ha fatto? No non è questione di aggancio noi non guardiamo mai non guardiamo mai queste cose perché noi la classifica non ci interessa quindi non penso alla Rambiolese penso allo Staletti e oggi abbiamo fatto una partita diciamo molto intensa sotto il profilo magari dell'agonismo però si è visto poco calcio purtroppo gioco molto spezzettato probabilmente noi siamo cascati in qualche tranello di troppo abbiamo perso la testa in qualche elemento che sicuramente in settimana verrà richiamato ci verranno sicuramente dei provvedimenti perché noi siamo una squadra che deve pensare a giocare a calcio e purtroppo oggi l'abbiamo fatto a sprazzi ed abbiamo sbagliato dei gol incredibili sulla linea della porta due volte non siamo riusciti a metterla dentro non si sa come però mi fa molto piacere vedere che veniamo fuori casa giocare vicino qua a Staletti e vedere l'entusiasmo della squadra di casa che ci ha battuti quindi mi fa sentire molto molto forte e di questo sono molto molto contento non mi aspettavo questo entusiasmo per questa vittoria e devo dire la verità sono veramente veramente contento mi sto già ricaricando per questo motivo per la prossima dico cambia qualcosa no no sono assolutamente sono contentissimo perché vuol dire che ci reputano una squadra formidabile per queste sultanze che ho visto prima ma io lo sentivo pure ma lo siete in realtà perché siete i primi in classifica io vi ringrazio se lo ritenete ma noi siamo una squadra che come le altre che lavora come le altre e che se è stata più brava delle altre perché è stata fino a oggi anzi fino a ieri perché la Rombiolese ha vinto ieri fino a ieri prima in classifica vuol dire che ha avuto qualcosa di più rispetto alle altre formazioni però siamo come le altre squadre esattamente come le altre squadre quindi questo entusiasmo quando ci si gioca contro e a me fa soltanto piacere sono contentissimo veramente i ragazzi hanno fatto secondo me dal punto di vista del gioco anche una buona gara abbiamo sbagliato troppo sotto porta perché devo dire la verità ha condizionato molto la partita dopo essere passato in vantaggio quel gol regalato su un retropassaggio sbagliato perché lì praticamente abbiamo riaperto la gara altrimenti credo che ci sarebbe stata poca partita perché eravamo nettamente padroni del campo grazie a tutti